In questa puntata di Cucine da Incubo, lo chef cannavacciuolo è al ristorante La Fontanina. Come rovinare l'immagine di Totò. Ha trovato due titolari senza alcuna esperienza. Cioè ma un cliente che cazzo ti deve dire quando gli serve un piatto così? Una cucina dove regnano urla e improvvisazione. Una pizza devi fare, guarda che hai fatto, hai fatto un rombo? Dei menù che invece di generare profitti, producono solo perdite. Vi rendete conto di questi cazzo di menù che avete? Lo chef cannavacciuolo dovrà ristabilire ordine in cucina e indicare una strada in grado di far funzionare un ristorante sull'orlo di una crisi di nervi. Ti do una cortella, ti giuro ti do una cortella. Siamo a Centocelle, uno dei quartieri più popolari e conosciuti di Roma. Qui due fratelli, Alessandro e Daniele, hanno da poco preso in gestione il ristorante La Fontanina, senza avere alcuna esperienza nel campo della ristorazione. Non avevo mai lavorato in questo ambito. Sono un grosso appassionato di ristoranti, nel senso che prima di avere il mio ristorante andavo spesso a mangiare fuori. Inizialmente non sappiamo bene quello che fare perché comunque non eravamo del mestiere. Entrambi i fratelli lavoravano in altri settori. Abbiamo sempre avuto dei negozi alimentari e casalinghi. Abbiamo dovuto inventarci un po' tutto qui dentro. Per sopperire alla loro inesperienza, Alessandro e Daniele hanno chiamato in cucina dei professionisti, come lo chef Bulbul, il pizzaiolo Binla e i lavapiatti Hussein, tutti originari del Bangladesh. Ho 14 anni sta a Roma io, quindi sempre dentro cucina. Mi dai due piatti per favore? Non c'è un primo che c'è niente. Alessandro ha tenuto per sé il ruolo di coordinatore. Mi sono messo in cucina perché ci serviva da tramite qualcuno fra cucina e sala. Tavolo due, streccetti, rucolo e paghino. Tavolo cinque, streccetti, rucolo e paghino. Uno e due. Cucina ha problemi tanto. Alessandro semina disordine e urla, condizionando il lavoro del resto dello staff. Tu dimmi se potremmo fare una pizza con le patate che sono diventate maroni. Sandro sarà via subito. Non c'è avvi pazienza. Daniele è il responsabile di sala, in cui lavorano due sorelle, Valentina ed Emanuela. Fritto? Io ho cominciato a lavorare qui da marzo dell'anno scorso, quando abbiamo aperto il ristorante. Iniziavo come fidanzata di Daniele, il proprietario. E visto che comunque erano tutti in famiglia ormai, comunque c'era mio cognato, c'era mia sorella e ho detto vabbè, vengo io. I primi tempi i clienti latitavano e il ristorante era sempre vuoto. All'inizio duro perché comunque abbiamo iniziato e facevamo sette persone, dieci persone. Per attrarre i clienti, Alessandro e Daniele hanno avuto un'idea. Abbiamo deciso di inserire i menù fissi a basso prezzo, in modo da poter riportare un po' di clientela. Con l'introduzione dei menù, il locale ha cominciato a riempirsi. Piano piano la gente è venuta. Siamo passati dalle 20 persone di sabato, anche alle 100, 110. I menù però hanno rapidamente rivelato l'altra faccia della medaglia. Si spende 10 euro a persona, 11 euro, quindi noi con questi incassi non riusciamo a pagare tutte le spese che ci sono in un locale. Alla fontanina, se i menù sono a basso costo, le porzioni sono invece sempre abbondanti. Secondo me è un altro po' più di pasta, vedete, perché così la gente si sente male. Regalano, non lo so come pagano noi, non lo so io. Ai problemi creati dai menù si aggiunge la mancanza di cura dell'impiattamento. Vengono serviti comunque dei piatti tolti dalla padella, messi sul piatto e portati, senza cura del piatto e senza niente. Ci stanno i vongoli, i gamberi, la panna, non state niente. La tensione di Alessandro e la confusione della cucina si riflettono anche sull'organizzazione della sala. Se stiamo tutti qua, in sala non c'è nessuno, tu rimani così. Durante la serata c'è un po' di trambusto. E tu un cucchiaio? Manco un modo, perdiamo tempo, non hai capito che perdiamo tempo. Si perde tempo per cose veramente stupide. Vai, occhio alla gente che c'è fuori, non la ciaccare Valentina. Non c'è molto dialogo. Ti tolano la cortellata, giuro ti tolano la cortellata. Bisogna trovare la pace. E gamberi, i gamberi, tu cazzo stanno. Per lo chef Cannavaciuolo non sarà facile indicare una direzione e rimettere in ordine i conti e la situazione in cucina. Lo chef Cannavaciuolo è arrivato a Roma, nel quartiere di Centocello. Centocello, il Gerome è stato un quartiere storico di Roma, bello e movimentato. Questa è l'insegna del ristorante. Si vede bene. Pure gli errori, ciliaci, sconti, prezzi, 7 euro, 10 euro, 15 euro, 20 euro, 25 euro. Mi sembra l'insegna di un supermercato. Iniziamo bene. Buongiorno. Buongiorno. Piacere Cannavaciuolo. Piacere Daniele. Piacere Alessandro. Piacere Manuela. Ciao Manuela. Lei è la cameriera e la mia ragazza. Io sono il responsabile. Responsabile e proprietario? Proprietario, sì. Tifoso della Lazio, no? Sì, tifoso della Lazio. Io sono aiuto chef e dirigo la cucina. Come vanno le cose? Potrebbero andare meglio. Ogni fine mese ci sono un po' troppi problemi. Fine mese ci sono problemi di soldi? Eh sì. Da quando è che siete aperti? Noi siamo aperti da un anno preciso. Prima cosa facevate? Noi abbiamo delle attività commerciali. Ah, perciò voi non siete... Ristoratori, no? Ristoratori. No, no, no. Commercianti da una vita. Lo sapete che vi siete messi in un tunnel? Senza uscita. Che è un pacchetto regalo qua? Sono dei menù che facciamo fissi... 25 euro menù pesce. Sì. Quando lo chef ha visto i nostri menù, mi sono sentita ancora più stupida di quello che poi in realtà ti senti comunemente durante la giornata normale. Con questi menù la gente non vi manca, allora? La gente no. L'incazzo vi manca. Dai, mi fate assaggiare qualcosa, sono curioso. C'è lo chef, c'è il chef Canocciolo. Facciamogli vedere che la qualità è buona, ok? Questo è il menù? Ah, c'è pure un menù, allora? Eh, sì. Chi è che ha fatto questo menù? Mio fratello. Lo chiami Alessandro? Olè. Eccomi, chef. 5-60 piatti stanno qui sotto. Poi come funziona? L'antipasto lo facciamo noi. Cioè io se prendo il menù di pesce. L'antipasto lo facciamo noi, intanto scelgono il primo e il secondo dalla carta. Uguale con la pizza, uguale con la carne, uguale con la pasta. Sia il nostro menù che i menù, quelli del cubo, sono i problemi più grandi, forse, di questo locale. Chi è che prenderà come? Io, io. Allora prendo antipasto misto di mare, risotto alla crema di scampi, gnocchi, panna, bongole e gamberi, ravioli, funghi, tartufo, provola, e specchi. Filetto di rombo in crosta di patate. Ok. Prego, chef. Tipasto di mare, polpo e patate, insalata di mare, alici marinate e cocktail di gamberetti. bello, eh, da vedere, eh. Si potrebbe fare meglio, secondo me. No. Questa è insalata di mare comprata. Polpo e patate? Poco saporito? Non sa proprio di niente. Qualche su? Gamberetti. 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 Larve. Sono piccole. Dici, l'ansia, non ti viene l'ansia. Come fai a venire l'ansia? Stai parlando di pesce, eh? Pesce, pesce. Ok. Si sente solo la salsa. Ketchup? Eh, ketchup, sì. È basso. Queste alici qua, eh, sono pure buone. Solo, guarda, buttate in un piatto così, eh. E quello è pure il piatto migliore. Ah, questo è il piatto migliore? È uno dei piatti. Va bene così. Alici, entro che sono buone, però sono messi male sul piatto. Ma la roba deve essere buona, poi poi se non è messa in messa, va mangiata, né? Uno sa le mettere sul comodino a casa. Inzalata di mare non sa di niente, sembra quella comprata. No, vabbè. Polpe e patate non sa di niente proprio. Cioè, polpe e patate non è buono. Polpe e patate posso fare una guerra, è impossibile che non è buono. Inzalata di mare è fatta domenica, vabbè, siamo a martedì. Però polpe e patate non esiste. L'antipasto di mare comprende anche spiedini di pesce misto. Spiedini? Che pesce è? Quello è uno spiedino di calamaro. In realtà è totano. Questo ce lo dirai appresso. Un calamaretto che costa, buono. Ci vado a mettere uno spiedino di merda vicino. Vabbè, comunque adesso io vado a dire almeno del polpe e patate perché veramente... Dio le benità quelle che ha fatto. Più che resto c'ha ragione lui, ma il polpe e patate ce l'ho qua, per giù. Chef, una cosa. Polpe e patate. È arrivato stamattina fresco? Cotto male, condito male. No, però la qualità della freschezza del polpo no. No, non voglio parlare della qualità dell'ospiedino. No. Il pastoncino di pesce è un pesce comunque scadente. Ne vogliamo parlare di camperetti? Troppo ketchup. Allora, che viene a fare in sa? Bulla, andiamo con i primi. La crema di scampi sarà buona sicuramente. Ne preoccupa, riso precotto. No, 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 posto. Risotto alla crema di scampi. Come rovinare l'immagine di Tato. Cianza. Chiamami Alessandra. Eccoci. Un risotto di pesce. Tu che senti? Non si sente il pesce. Panna, olio e pomodoro. Risotto al suo. Il riso cotto, non lo so, c'è tre cotture questo riso. È pre-cotto il riso. Bulla fa schifo. Crema di scampi, devo dire io, forse è colpa mia. Se sto facendo una sintesi, andiamo a fare un altro. Fa schifo proprio. Mettici poca panna, Bulla, che tra alcune la panna non gli piace. No, niente panna. Gnocco, panna, vongole e gamberetti. Questo è anche un cavallo di battaglia. Qua la battaglia è persa, voglio... Chiamami Alessandra, dai. Eccoci. Un chilo di panna che hai messo. Ecco, ho visto, Bulla, te l'ho detto. Sarà in due. Troppa panna. Cioè, è inutile mettere gamberi rossi dentro, vongole, eh? E poi ammazzarlo con la panna. Alla panna non gli piace, perciò questa qui qua c'è messa la panna? Sì. Butta. Facciamo i ravioli senza panna. Sta cazzo di panna. Panna, panna e panna. La cosa che non c'è mai mancata qui, che cos'è, là? Panna. Bravo, un mostro. Prego, raviolo. Emanue, mi chiami Alessandro? Sì. Ormai mi sento solo se non c'è lui. Non ce li vedo, un'altra volta, non ce li vedo, dai. Alessandro l'ha presa male perché comunque lui è convinto dei suoi piatti. Siediti. Perfetto. Tu conosci il porcino fresco, hai mai mangiato il porcino fresco? Certo, sì. Ok, ora mangia questi. Eh no, nel senso, il porcino fresco è un'altra cosa. E tu perché devi usare questi funghi con un gelato di merda? Alla fine, sì, i ravioli non erano buoni. Cosa c'è scritto sopra il menù? Ravioli, provola, speck. La provola dove? La provola non c'è. Ci hanno portato taleggio e speck. Mi devo mangiare un piatto che è servito così, sinceramente. Brutto. Brutto. Mi sta facendo un complimento. Oggi mi sta facendo fare la fame. La prima volta che ho visto un fratello preoccupato è colpa nostra sta dieta. E soprattutto non sapeva dare delle risposte. E il secondo non ce sta. Filetto di rombo secondo me fanno una figura di merda storica. Sicuramente lo chef se ne accorge che non è a filetto di rombo. Non io lo porto. Scusa, non lo sanate, là io dico guarda questo fa schifo, ti dà un'altra cosa. Quello che ho ordinato lui, mandala. Bull, no. Lo dico io, ma posso dare responsabilità? Vabbè, vai. Chef, posso portarle un altro secondo invece che il filetto di rombo in crosta di patate? Perché? Perché sono sicuro che il filetto di rombo non gli piace. Puoi, se non ti piace, a te ne piace a me. Bull, fa il filetto di rombo. Questo, questo ci mena. Il filetto di rombo ci mena. Cerchiamo di non farlo uscire troppo mollo. Prego, chef. Rombo in crosta di patate. Ciao, l'amico Dosa. Ecco, vai. Hai vinto ancora tu? Fa schifo? Eh, ti l'avevo detto. Poi io che ti ho chiesto? Il filetto di rombo. E questo che cos'è? Non è rombo. Mi incrocio fra platezza e persico, dipende quello che gli capita. Perché non mi hai detto che non era rombo? Chef, oggi non mi è arrivato il rombo. Punto. No, il rombo non mi arriva mai. È sempre questo il nostro piatto. Non pensavo che andasse tutto così male come è andato. È una grossa delusione. Sa pure di vecchio il suo pesce. Cioè, da quando è che avete fatto la grossa di patate? Di solito lo chef questo lo prepara due o tre giorni prima. Dopo due o tre giorni tu lo fai in cottura? No, già va in cottura. Poi teniamo un frigorifero e poi lo riscaldiamo. Cioè, è un rombo che non è un rombo. Cotto tre giorni fa? Eh, per questo non ti voglio portare. Dai, chiamalo chef perché parliamo un po', dai. Ok. Servetto. Come ti chiami? Bulbul. Bubu, da quando è che fai il suo lavoro? Più di decenni, cotto decenni sto Roma, sempre dentro al ristorante. E qua il menù chi l'ha fatto? Ha fatto il proprietario anche Alessandro. Io e Daniele, insieme. Ma è normale che tu fai il menù e poi lui lo deve cucinare, eh? Che tu sei chi dici di fare un piatto e lui ti chiede come si fa. Tu sei in grado di farglielo vedere, eh? Assolutamente no. E allora? Tutti sti piatti insieme, cioè quando arriva insieme 20 comandi diverse, già diventato matto. C'è pure la fortuna di avere un ragazzo in cucina che ha 15 anni di esperienza. E' nudo che prendi carta e penne e riempi tre fogli per dire siamo bravi, sappiamo fare. Vedete che oggi non ho assaggiato quasi niente. Solo alla vista. Già si vedevano gli errori. Regalate la roba, perché pure se sono prodotti che rovinate, alla fine costano. E nel prezzo non ci state. Da tutto. Speriamo che lo chef ci dia le giuste indicazioni per iniziare a guadagnare qualcosa. Manca la cura. Perché si cubi, raga? La tombola. Suo bancone che è un bancone non è un bancone. Il bancone è quello che abbiamo trovato. Non ci abbiamo avuto più tempo, più soldi per cambiare. Entri al supermercato e tutte le scondizie del giorno. Guarda, che vedi? Veramente. Dai. Che stasera sono curioso di vedere il vostro servizio. Ok. Per la fontanina è l'ora dell'apertura serale. E i primi clienti non si fanno attendere. Buonasera. Prego, accomodatemi. La scelta di tutti ricade immediatamente sui menu fissi, privilegiando i piatti più costosi. Buonasera. 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 Siete in linea? Pronti. Bull, sei pronto? Sì, pronto. Allora, c'è un'antipasta all'italiana con una bufalina pizza. Poi dopo c'è un ricadone di grigia, un gnocca racconto, un arello che c'è il pepe. Perfetto. Ok, perfetto. Dai Bull. Oh, ma come è attaccata le comande? Le comande le attacchiamo col burro? Con il burro? Comprare i calamiti è troppo complicato per noi. Oh, Sandro, ci sta una tavolata bella tozza. Eh, prova un attimo a indirizzare, indirizza ogni tanto. Bull, inizia a vederti i primi. Sì, sì. Ok, con la prima comanda c'è una bufalina. Pronto. Ok, pure questo si deve sistemare. Manuè, guarda quanto resto d'olio, Manuè. Vai, rifallo questo. Vai, rifallo, veloce. Pesce. Buono. Daniele, il tavolo 3 me l'hai portato, Daniele. Tanto, Daniele, fai bravo, abbiamo la comanda, il tavolo 3 non c'è sta. Non ti fai scordare una comanda. Pensa che il lavoratore scrive, se ne fai manca a scrivere, va a tappare una passeggiata. Alessandro ha messo tutti proprio sotto pressione. Che numero era, scusami? Di che te sei mancata stamattina, ti ricordi? Tu non ti ricordi manco come dichiaro. Alessandro ti provoca sempre? C'hai le comande in mano? Poi una camminatina? Una persona che ti urta il sistema nervoso. Quella ne fa manca a guardare che antipasto deve portare. Tieni, questo qui, dai al cane. Cioè, è molto, molto salata. Questa è troppo salata. Troppo salata. Vieni, 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 vieni. Ale, salatissime. Com'è? Ha fatto la grigia, la crosta del sale, ha fatto. I problemi con il sale continuano. È davvero troppo salata. Ale, era troppo salata. Oh, ma assaggi l'acqua del bollitore, eh. L'acqua del mare, se non sei un calabria. L'acqua è così uguale. Cioè, ma ve lo devo dire io che l'acqua è salata? Non ce lo devi dire, oh, chef, che l'acqua è salata. Ma manco io ti ho dato a te che ci sono 15 anni che hai fatto questo lavoro. Lui invece devi chi aiutare me. Lì già ha fatto casino. Bulla, è una porzione, questa è troppa. Ma è troppa, Bulla, ci vai buttare la roba. Sarebbe possibile però una dog bag per portare la schia? Devo prendere una ciotolina per l'asporto. Ma ancora costa asporto? Ma ancora costa asporto, Manueva, ancora? Ma la gente si porta la roba a casa? Sì. Qualcosa che non è buono, no? Qualcosa che non è buono? Puzza, eh? L'attenzione dello chef è indirizzata verso un odore che proviene da una padella con il ragù. Il ragù, il ragù che è andato, ragazzi. Acido. Metti il naso. Ma Bulla, ma tu ti rendi conto che figura di merda? Su quattro prime, tre salate e uno acido. Confusione e disorganizzazione incidono sulla qualità dell'impiattamento. Cioè, guarda questo piatto che sta uscendo, va. Fa schifo, è brutto, c'è ragione. Cioè, ma un cliente che cazzo ti deve dire quando gli serve un piatto così? Sì, quando si fanno guardare, mi fanno schifo solo a vedere. Tieni, leva questa sbobba qui dei cani. Cioè, lo fattelo da solo. Ma faccia la porta tu, sta roba. Grigia? Tonarelli, cascio e pepe. Bufalina, cita? No, ne hai visto? Sei visto che te l'ho detto? Quando ha detto a me, ha fatto. Eh, io voglio dare un mano solo. Lo sai che c'è? Rimani fermo così. Amica, cani. Non devi superare sto posto, non devi più superare. Cobilla me la prendo pesantemente perché a serata fa tre, quattro cavolate fisse. Una pizza devi fare, guarda che fa, hai fatto un rombo, guarda che più. Guarda che è una pizza, rotonde, le pizza si fanno rotonde. Con tutte queste urla sono stordito. E stasera ho avuto la certezza, con questi menù si sono fatti solo un autogol. Secondo te, c'è da attendere ancora parecchio. Il 12 deve aspettare ancora molto? Il 12 è quasi pronto. Due, tre minuti. Non ce la lasciamo più. Buffalina, è pronta? Quasi, un minuto. Ma come? Voglio, voglio, aderci a me. Adesso l'ha detto, basta. Non mi dici così. Non te lo devo dire io, devi guardare le comande, non devi dire sì. Asà, asà, asà. Cacchiatone a posto e ti tutti i cazzi ruoli. È stata una serata flop totale perché oltre a non dare un servizio, non siamo stati contenti per l'incasso. È un'altra di quelle serate dove noi abbiamo rimesso dei soldi. La serata si conclude fra le urla della cucina, lo sconforto della sala e l'insoddisfazione di molti clienti. Tra poco, lo staff è messo a confronto con i problemi della serata. Ragà, così già l'avete persa la partita, potete già chiudere. Lo chef cannavacciuolo risolve gli errori del ristorante. Sotto ho disegnato la vostra porta. La difesa fa acqua da tutte le parti. E insieme a un grande atleta indica la direzione da seguire. Ho una sola parola, attacco. Lo chef cannavacciuolo è a Roma, al ristorante La Fontanina. Ah, questo è il piatto migliore? È uno dei piatti migliori. Va bene così. Ha trovato un locale dove le perdite superano i guadagni. Lo sapete che vi siete messi in un tunnel? Senza uscita. E una cucina in predda al caos e alle urla. La pizza devi fare, guarda che hai fatto, hai fatto un rombo. Adesso per lo chef è arrivato il momento di confrontarsi con lo staff. Piatti salati, piatti acidi, piatti brutti da guardare. Se stasera avessi giocato una partita di calcio, che risultato usciva fuori? Il cliente oggi è stata una sconfitta per tutti quanti. Alessandro, da quando è iniziato il servizio, non sei stato un secondo senza parlare, senza urlare. Cioè lui deve proprio fermarsi un secondo, di che sto fa? Hai urlato con tutti, con loro, con Emanuele. Tu stasera a Billa gli tiravi le ricche dove lui non poteva venire. Vedi che ti voleva dare solo una mano. Cioè ma poi ti entra il primo piatto salato. Vabbè, ci può stare lo sbagliato. Ma dopo il terzo, vi fermate un attimo, no? Mi rendete conto di questi cazzo di menù che avete? I piatti talmente abbondanti che la gente si porta in mangiare a casa. Quando è stato l'incasso? Intorno ai 550 euro. Facciamo 600? 600. Raga, così già l'avete persa la partita? Potete già chiudere. Dobbiamo andare avanti e non possiamo chiudere bottega sicuramente. Pensateci. Ci vediamo domani. Il giorno dopo, lo staff della Fontanina attraversa la città verso una meta sconosciuta. Che sei andato sta mannale? Tonino, salva cedì, Antonino. Attenzione, attenzione, si gira a destra verso lo Stadio Olimpico di Roma. Chef, hai visto dove siamo? Eh beh. Arrivare proprio all'Olimpico era un traguardo che nei sogni proprio neanche c'era. dai, forza, vai. Ma dai, spettacolo. E' brividi. E' bello. Tutte le più grandi soddisfazioni da tifoso l'ho preso qui. E' comodo stare in tribuna, no? Eh sì. Andiamo in campo, dai. In campo. Facciamo un po' di riscaldamento, dai. No, no, no. Numeri alla mano, lo chef vuole dimostrare in che modo i loro menù mangiano i loro guadagni. Questa è la situazione che c'è oggi nel vostro ristorante. Questi sono i due menù più importanti vostri, no? Menù di carne a 20 euro, menù di pesce a 25 euro. Questi due menù vengono composti dai vostri clienti. Cioè già questo è un problema. Il cliente sceglierà sempre i piatti più cari. Anche noi ci rendevamo conto mentre prendevamo l'ordine ai clienti che dicevamo dentro noi stessi, oggi ci avevamo rimesso. Sul menù di 25 euro avete un costo di 23 euro. Su quello di carne a 20 euro avete un costo di 18 euro. Sotto disegnate la vostra porta. La difesa fa acqua da tutte le parti. Perché è impossibile guadagnare due euro al menù. È tanta la paura di non arrivare a fine mesi con i conti e quindi magari uno tende sempre a difendersi per tappare i vari buchi. Per vincere la partita non puoi fare solo un gioco di difesa. Non lo dico solo io, lo dice lui. Ciao ragazzi, mi hanno raccontato della vostra storia. Paolo Ticanio è per noi un idolo e un personaggio da ammirare per quello che ha fatto. So che siete una buona squadra ma che vi piace giocare troppo in difesa. Questo non è il modo migliore per diventare vincenti. Per voi ho una sola parola. Attacco. Ecco ho capito quello che diceva. Di Ticanio che si rivolgeva a noi era proprio qualcosa di indescrivibile. Perché solo attraverso l'attacco tu puoi anche rischiare di perdere una o due partite ma alla fine diventerai vincente, le vincerai. Per cui ragazzi, mi raccomando, da oggi in poi bisogna attaccare. Essere lì insieme con grande volontà e determinazione per ribaltare il risultato. E poi un'ultima cosa. Fate sparire quei menù che sono un disastro. Ok? In bocca al lupo. No, è un spettacolo. Wow. È un spettacolo. Fai a sentire le sue parole. Attacco. Perciò raga, basta solo difendere. Sono tanti mesi che ci stiamo difendendo ma in realtà se continuiamo così, prima o poi il gol lo prendi. Questa è la tattica che ho pensato per voi. È una tattica d'attacco. Perché prima cosa ho tolto la possibilità di scegliere alla carta per il menù. Cosa significa questo? Faccio la spesa mirata e abbatti il primo costo. La seconda azione, vedi il menù carne, c'è il primo, secondo dolce e acqua. Non c'è l'antipasto. 20 euro, basta. Con un costo di 11 euro. Pure sul menù di pesce. Avere un margine dai 17 ai 25 di 8 euro mi permette di alzare un po' di qualità. Avere un margine solo di 2 euro ci rimetti pure. Basta. Attaccate. Questo è l'attacco giusto. Con il suo consiglio sceglieremo gli ingredienti giusti, le cose giuste. Insomma, speriamo che tutto vada bene. Adesso dobbiamo passare all'azione. Dobbiamo fare il gol. Ma dobbiamo superare questa barriera. Anzi, la porzione troppo abbondante, il menù è sconto impossibile, locale pieno e cazza vuota. Vitici e urla. 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 Perciò una alla volta. Tirate, superate questa barriera e fate finalmente gol. Bene. Grande. Bravo. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. 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 Finalmente eravamo tutti uniti, cosa che comunque fino ad oggi non era mai successa. Forte. Bravo, dai. C'è ancora un'ultima cosa da fare prima di lasciare lo stadio olimpico. Adesso mi dovete fare un piacere. Voi a me. Lì c'è un piacere, eh. Dovete bruciare sti cazzo di menù che c'avete. Va bene. Una delle cose più belle che abbiamo fatto in questa giornata. Adesso adotteremo, insomma, questa politica più offensiva e andremo avanti. Ora per Bull Bull e Alessandro è arrivato il momento di giocare ai fornelli. Qua siamo nelle cucine dello stadio, cioè una cucina professionale. Voi siete pronti? Sì, pronti. Sì. Dai, facciamo tonnarelli, carciofi, acciughe e pecorino. Va bene. Come prima cosa un po' di cipolla. Tagliamo pure la patata, sottile, così cuoce prima. Un po' di brodo vegetale, basilico, un po' di cipolla, un po' di pepe, un po' di sal e patate. Questo è un fondo. Vedi? Senza fretta, senza urlare. Immagina a me adesso che urlavo. Tu cosa capivi? Nulla. Noi vi doate un'altra maniera perché noi quando iniziamo il lavoro, strilla o rulla. Prepariamo i carciofi. pure qua facciamo un taglio molto sottile. La crema è pronta di patate. Asciughe. Ci mettiamo l'asciughe dentro. Mai pensato che una salsa base così facile, però mai pensato. A questo punto andiamo a cuocere la pasta. Immagino pecorino, asciuga, carciofi, pacche. Paga. Scoliamo dentro al carciofo. Pecorino. Sì. Andiamo a impiattare. Cosa ci ho messo? Pochissimo. Io pensavo che sai quanto ci vuole che fa una crema di alici, un carciofo. detto, fatto. Dai, assaggiate, dai. Buonissimo. Punto, buono. Che ti ho detto che ti facevo? Un piatto con pecorino, carciofo e asciughe. Si sentono? Sì. Hai fatto bingo. Ci sentono i tre ingredienti che abbiamo messo. Ha usato mezzo carciofo, due alici e una patata. Proprio di numero, l'ho vista personalmente. Adesso vi faccio vedere la seconda ricetta. Ricciola e rapanelli. Per fare la salsa usiamo yogurt naturale e la buccia dei rapanelli. Il primo passaggio è stato fatto. Usiamo il filetto di ricciola. pepe e olio. Un passo in foglio di carta da cucina. Ecco qua. Padella calda. Uno spicchietto d'aglio. Un po' di rosmarino. Maggiorana. Il pesce deve cuocere piano piano, così non diventa stopposo, perché poi la ricciola non deve essere servita troppo cotta. Io sono affortunato. perché insieme con lui, anche per imparare un po' di cose. Allora, prendiamo il piatto. Vedi pure il colore, com'è bello? Bellissimo. Ho visto? Mai coprire i gusti. Andiamo ad esaltare il gusto. Guardandolo mi viene in mente il tuo rombo. Specie di rombo. E' uguale? E' uguale? Dai, assaggiate, dai. Ho fatto una piatta, guarda, non c'è parola qui, come sapore, quanto è buono per vedere. Hai visto? rispettare gli ingredienti, viene fuori il colore, sapore, tranquillità. Questa è cucina. Se lui rimane così, sicuramente la prossima volta noi squadra vinciamo sicuro. Per una nuova strategia di gioco, serve un locale nuovo. E' il momento di chiamare in campo anche lo staff dello chef canavacciuolo. Tra poco, lo staff scopre come si è trasformata la fontanina. Un nuovo menù si svela sui tavoli del ristorante. Pochi piatti, poche chiacchiere. Ordine e organizzazione entrano in cucina. E finalmente quei piatti, con la pizza, totò, pulcinella. Lo chef canavacciuolo è al ristorante La Fontanina. Noi vogliamo parlare di camperetti? Troppo caccia. E allora che viene a fare in sala? Ha trovato inesperienza, confusione. Se ne ne manca a scrivere, vado a fare una passeggiata. E idee sbagliate. Vi rendete conto di questi cazzo di menù che ci avete? Lo chef ha rimesso i numeri in ordine. Attacco. E caricato lo staff. Faccio la raga, basta, solo difendere. Vai, vai, vai. Vai, yeah! Per lo staff della Fontanina, è il momento di scoprire il nuovo aspetto del loro locale. Buongiorno. 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 Visto? Primo grosso cambiamento. C'è un logo. Sto spaventino. Cucina per Cilia, c'è scritto giusto. Brava. Era bruttissimo, lo diavolo, l'ho odiato dal primo momento, quindi... Un'insegna per un ristorante serio e non più un'insegna da supermercato. Già dà un altro segnale di tipo di ristorante che magari si può trovare dentro. Dai, raga, è il vostro momento. Dai, andiamo. Bello! Madonna! No! Oh, entrate! Dai! Ma è stupendo! Mi sono tenuto tanto, però mi sono emozionato perché comunque ho visto un altro locale. Bellissimo! Ma è quello di prima. Infatti è lo stesso ristorante. La cosa bella adesso è questo bancone. Cioè, prima c'era un bancone dove io non potevo arrivare perché c'erano i tavoli. Guarda quella parete quando è bella. I lampadari nuovi. Mi sono stato spaisato. Sono entrato dentro un locale che non sentivo più di come questo è il locale nostro. La disposizione di tavoli è diversa. E poi guardate questo parchiattelo. Finalmente non c'è più quel pavimento bianco che si sporca ogni passo che una persona fa. C'è Alessandro che sta la mezza facendo con la terza così. Non riesce a capire. Non so, devo guardare perché non sembra proprio il nostro ristorante. Abbiamo fatto il gol. Il primo gol l'abbiamo fatto, no? Aspettacolo. Pazzo. Bull, non ti senti male? No. La cucina è un'altra cosa. Le pentole, gli accessori di cucina, i cortelli, i robot e finalmente quei piatti. Una linea di piatti tutti uguali. No, con la pizza, totò, pulcinella. Finalmente i piatti tutti uguali e piatti ognuno al posto giusto. Antipasto, primo, secondo, dolce. Abbiamo i piatti tutti nuovi ma ci dobbiamo mettere qualcosa dentro in quei piatti là. Vedete con me che ci ho pensato io, dai. Ci voleva. Che bello. Che splendore. Mamma mia. Che mamma mia. Bello, bellissimo. stai sudando, che hai paura di farlo? Speriamo che riusciamo per farlo. Così belli piatti mai in mia vita visto, veramente. Dimenticate i vostri piatti che erano 50 piatti, 60 piatti. 4, 4, 4 e 4. Gli antipasti, un cannellone di bresaola con caprino e rucola. Crostone di pane con burrata, scarola e alici marinati. Che facciamo buone alici marinati? Te la dà lui, dagli una patta. dai te la dò io a te. Bravo. Il menù è stata la cosa più bella della giornata. Cioè si è aperto proprio un mondo. Calamaro, ripieno di pappa a pomodoro e una crema di basilico. Zuppa di cavolfiore, limone candito e vongole. Bello, ma la cosa interessante è che il cavolfiore è stato cotto con l'acqua di vongole. 100% il gusto. Passiamo ai primi. Gnocchi allo zafferano e cozze. Vedi, bello giallo. Quello che cos'è? che mi sono dimenticato. Pagliatelle, crema di alici, carciofi e pecorino. L'ho mangiato buonissimo. Tonnarelli con zucchine, cacio e pepe. Risotto, limone e scampi. Sono piatti semplici, ma un piattamento veramente importante. costolette d'agnello impanata con insalata di puntarella con i profumi del Mediterraneo. Pomodoro, acciuga, capperi, olive, polenta con coniglio in umido. Rana pescatrice con lenticchie brasate e carota. Cos'è là? Allora, lì abbiamo una ricciola saltata in padella su una crema di yogurt e buccia di rapanello. Vedi, quella non è ricciola, quella è branzino, perché oggi il branzino era più bello, più fresco. Una cosa che ci permette di risparmiare sotto il fattore della spesa e soprattutto di non buttare al nostro guadagno. Passiamo ai dessert, fondente al rum con more e cioccolato bianco. Buono. Che adesso? Eh, che? Sto a mangiare con l'occhio. Sono molto goloso e mi piace mangiare bene. Tarpelletta con una sifonata di formaggio fresco e fragole, cremoso di limoncello, crumble di torrone e un caviale di cioccolato amaro. Ci abbiamo un lingotto di caramello con un fondo di amaretto e una salsa mou. Pochi piatti, poche chiacchiere. Adesso abbiamo l'opportunità di cercare di fare qualche gol di più degli avversari. E assaggiate. Mi è piaciuto tutto, 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 tutto. Con l'impegno e con la pazienza soprattutto che è mancata fino ad oggi, Bull e Alessandro riusciranno a fare questi gatti. Scampi e limone, non si trova. Sarà una grande riapertura. Per la riapertura, lo chef carica e dà gli ultimi consigli allo staff. Alessandro, stasera devi motivare la squadra. se tu motivi la squadra, stasera la finale la vinciamo. Dovevi dire qualcosa ai tuoi ragazzi? Ragazzi, stasera è la partita, la nostra finale. Podiamo stare calmi, io in primis e andiamo a vincere questa partita. Ok? dai, 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 dai. Buonasera. Da subito, il nuovo volto del ristorante raccoglie solo commenti positivi. sembra più grande. I clienti entravano e si guardavano intorno. Guarda la cura dei particolari, guarda le lampade. Questa anche le lampade, sì. Hanno notato l'enorme differenza, insomma, dal prima al dopo. Dai, ragazzi, dai, mettiamoci in linea, dai. Bull, stasera non devi usare il burro, ok? Ok? Ci sono le calamite. Ogni comanda la appoggiamo qua. Più pulito, sicuramente. Buonasera. Buonasera. Cosa prendete? Zuppa di cavolfiore, limone, candida e bombole. Gnocchi, zafferano e cazzo? Sì, buono bene. Ok. Dai, dai, raga, dai, dai, dai. Eccomi, perché le prime comande. Dai, allora, c'ho quattro zuppe e quattro gnocchi, qui. C'era anche tanta agitazione e ansia, perché comunque preparare nuovi piatti non è semplice. Hai assaggiato te? Ho assaggiato la zuppa, perfetta. Metti un po' di più, eh? Un po' di più abbondanti? Un po' di più significa abbondanti, significa porzione normale. Bull, hai assaggiato l'acqua di bollitore, eh? Sì, ho assaggiato. Com'è? Giusto? Sicuro, Bull, io non sto assaggiando, Bull, mi pito d'idea. Assaggiato. Lo chef era lì, fisso, a controllarmi e giustamente voleva che i suoi piatti uscivano come lui ce l'aveva spiegati. Bravo, Alessandro. Vai, pronte le zuppe? Tavolo 10, Manu. Tengo, zafferano e cotte. Portare i piatti è stato un piacere perché erano veramente belli. Buon appetito. Grazie. È stata una bella soddisfazione, è stata come una rivincita. Già dai primi piatti i complimenti non si fanno attendere. si saltano tutti i sapori. Puliti? Va bene, va bene. Questi non li dovete nemmeno lavare. Oggi vince per campionato, oggi, non una partita. Tutti i piatti puliti, tutti mi hanno detto che sono da paura. Buoni? Dai, 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 dai. Usai questo, può pure non lavarlo. Ok? Va bene. Usai nocci, non devi per lavare più piatti, quindi già riva piatti come lavato. Ragazzi, dai, stiamo a metà dell'opera. Sì, sì, dai. Abbiamo ancora tanto da fare, non sbagliamo adesso. In cucina il lavoro procede bene, ma basta poco per infastidire Alessandro. Oh, Villa! Scusate, è caduto il tuo? Per favore, ti devi mettere qua. Per favore, per favore, una cosa hai fatto, una cosa hai fatto, una. Fermati qua, guarda le pinze e basta. Alessandro, dai, sempre colpa mia. Vieni con me. Secondo me, Alessandro, dì un po' calmo, basta. Se tu reagisci così, cosa succede? va a finire male. E tutti i lavori che abbiamo fatto lo dobbiamo rovinare perché si è rovesciato un piatto? No, no, non sbaglio. A volte sono pesante e mi rendo conto che manco anche di rispetto, però la fine serata per me finisce veramente tutto. Villa, scusa. Scusa, Villa, non è successo niente. Scusa, dai, non è successo niente. Forza. La prima volta che mi hai chiesto scusa. Ho pure un bacetto, ti ho? Mai fa così, come hai fatto oggi. Dato un bacetto pure. Tornata la calma in cucina, il lavoro riprende senza altri intoppi. La serata per me è stata fantastica. Manuela e Valentina hanno fatto le vere cameriere con il sorriso. I clienti escono soddisfatti dal ristorante e lo staff della Fontanina può rilassarsi e pensare con fiducia al futuro. È stata una serata bellissima. Andremo avanti con le idee dello chef e avremo sicuramente risultati sperati. in ultimo mi sono distratto un attimo. Com'è finita la partita? Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Grande vittoria. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Se voi continuate a lavorare così segnate sempre. E segnare significa vincere. E vista, la tua tranquillità è arrivata pure in sala. Erano tutti contenti. loro con i sorrisi non con l'ansia di venire in cucina. Continuate così. Ok, ok. Io l'assist ve l'ho fatto. Voi adesso questa palla qua segnate. Grazie. Ok? Ciao, raga. Ciao. 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 Ciao, raga. Ciao, chef. Grazie. 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 L'allenatore mi trasformo in arbitro. E per me la partita è finita. Addios. Grazie a tutti. Grazie a tutti.